L'Ischia è pronta a dare via, ecco che parte in questo istante la gara tra Ischia e Procida, il derby delle isole, Russo avanza e guadagna qualche metro, nel corridoio è buona la sfera, entra in area qui, c'è solo Costagliola, il pallone arretrato, parte Chiaiese col mancino sul secondo pallone, lo schede per Fondicelli e c'è il gol, grandissimo schema sul calcio d'angolo e l'Ischia passa in vantaggio. Si riparte in questo istante allo stadio Mazzella, l'Ischia in vantaggio 1-0 grazie al gol di Fondicelli, pallone nel corridoio per Costagliola, la tiene in campo, poi tunnel su Gabriele Sirabella, rientra il numero 10, il cross al centro verso Cibelli che controlla la sfera in area, il tiro di Cibelli e c'è il pareggio del Procida, al terzo minuto la prima palla utile a Cibelli, parte Chiaiese direttamente in porta, Lamarra blocca la sfera. Adesso Chiaiese, trani ancora Francesco Chiaiese, Luca Fondicelli, nuovamente verso il numero 10, da questi a Cristian Muscariello, per Fondicelli, Fondicelli entra in area, il tiro e c'è il gol, torna in vantaggio l'Ischia, doppietta per Luca Fondicelli, scatenato quest'oggi, ma grandissimo il lavoro anche di Cristian Muscariello che ha difeso bene palla. Cibelli, prova la conclusione, la palla sfiora il palo alla sinistra di Luigi Vennella, alla fine commette fallo Napoleone. E qui Chiaiese ancora che ha munito, occhio vediamo, arriva il rosso per Chiaiese. Effettuato ora, finisce qui, l'Ischia vince al suo esorde in Coppa Italia, la promozione contro il Procida 2 a 1, decide una doppietta di Fondicelli che ha risposto al momentaneo 1 a 1 di Cibelli. Grazie.